Thomas, 111 partite e 17 gol con il Bologna in un periodo storico in cui questa società era sempre a ridosso delle squadre più attrezzate in assoluto del campionato italiano ed è un po' il percorso che questo club sta cercando di intraprendere di nuovo. Intanto bravo perché ti sei preparato, vedo che ti sei scritto tutto, sei stato perfetto. Sì, io ho passato cinque anni stupendi qua, devo molto a questa società e a questa città, tant'è vero che mi sono stabilito anche qua a vivere, per cui sono super tifoso di questa squadra e mi auguro che si possa togliere soddisfazioni che sia la società e sia il pubblico si merita. La classifica dei tuoi gol più belli con la maglia del Bologna, io ne ho selezionati tre tra i 17 che hai fatto, una serpentina strepitosa con il Verona, conclusa con un gran gol a giro. Un tunnel prima. Sì, con doppio tunnel addirittura. Triplo, passiamo il triplo che tanto nessuno si ricorda per cui va benissimo. Il celebre gol con la Juventus, palonetto a giro su Buffon e un colpo di biliardo a San Siro contro il Milan nel 2005, gol della vittoria, contropiedi innescato da Bellucci e Zagorakis. Bravissimo. Sì, tre ottimi gol, soprattutto rimane più impresso il fatto di aver fatto gol a grandi squadre come può essere il Milan e la Juve, però ritengo che il più bello sia stato quello contro il Verona, che sicuramente non si ricorderanno in molti, per cui andate su YouTube, scrivete Locatelli, guardate Gol al Verona, mi raccomando. Grazie. 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 Grazie.